Tanta gente intorno, i ricevimenti. Dan veniva già insieme a Linda negli ultimi due anni. Alle partite. Stava già occupando la mia vita. Quindi anche incinta continuavo a lavorare? Sì, non potevo fare altrimenti. Allora facevo l'insegnante. Ero io che portavo i soldi a casa. Lavorai fino al giorno in cui nacque Kate. Non avevamo bisogno. Volevo dare a Danny il modo di studiare tranquillamente. Mi ha anche detto che persi un bambino. Sì, sarebbe stato il terzo figlio. Fu davvero una gravidanza spaventosa. Avevo perdite e stavo male.